Negozi ingabbiati e commercianti che per farsi notare dai clienti devono fare capolino con la testa dai loro locali e tutto questo, dettaglio non da poco, accade nel periodo più promettente dell'anno, cioè quello che precede il Natale, dunque lo shopping delle feste. Siamo in via Almerici, pieno centro storico di Pesaro, laterale di via Branca, una strada culturalmente nobile, nonché la stessa, che conduce alla piazza del Conservatorio Rossini. Qui dal 25 ottobre scorso, tra i commercianti storici della città, sono alle prese con le impalcature ingombranti per la ristrutturazione di Palazzo Antonioli, uno dei condomini storici e di pregio, che necessita, dal canto suo, di un recupero architettonico e di messa in sicurezza. Il problema però sta nel fatto che al piano terra di quel palazzo ci sono la libreria per bambini Le Foglie d'Oro e le due attività di rivendita musicale Baldelli e Fabbrini, letteralmente impacchettate. Impalcature che, tra l'altro, rendono la via già stretta ancora più strizzata. Come raccontano gli stessi commercianti, non sono mancati i disagi, con tutte le relative conseguenze, anche per quel che riguarda, ad esempio, gli addobbi natalizi, che quest'anno da parte loro non potranno essere allestiti per via del cantiere. Essendo solo i negozi sotto il palazzo, non abbiamo avuto nessuna voce in capitolo. Quando l'abbiamo saputo, gentilmente, l'impresa è venuta a avvisarci, ma per fortuna l'impresa che ci ha avvisato, una settimana prima abbiamo provato a chiedere di rimandare i lavori, soprattutto perché, insomma, dopo due anni di questo genere, avrà anche il Natale decisamente più in difficoltà. Così, insomma, speravamo, insomma, si potessero rinviare anche solo di un mese o due. Ovviamente c'è stato detto di no, ma neanche, non c'è neanche stato detto niente. E così partiamo in difficoltà. Adesso è vero che sono tre negozi che tutti più o meno conoscono, però comunque il passaggio così te lo giochi. In più questo noi ci costringe a tenere le porte chiuse, che per il discorso Covid, insomma, ci mette un po' di difficoltà. L'anno scorso penso che in parte ci siano salvati anche perché abbiamo potuto tenere le porte sempre aperte. Abbiamo i clienti che devono aspettare fuori, e aspettare fuori con una porta chiusa, insomma, è diverso che aspettare fuori con una porta aperta. In più sotto i lavori, insomma, io ovvio che sono preoccupata, però, di necessità virtù, perché tanto non ci potremo fare niente, non possiamo addobbare niente. Le toglieranno intorno al 23 dicembre, quindi vuol dire praticamente rimanere gli ultimi due giorni senza addobbi, anche tutto il periodo della Befana, senza un addobbo e senza la possibilità di farli. Con questo fatto penso anche dei bonus che ci sono ora. Sì, siamo impacchettate fino a Natale, il che ci porterà del disagio sicuramente. L'impresa sta lavorando bene perché ho visto anche questa mattina, hanno dovuto cominciare a scalcinare i punti più brutti, puliscono subito. Ci dovrebbe essere gente in circolazione. Adesso vediamo, l'unica cosa, se riuscissimo magari a far spostare la data dello smontaggio dell'impalcatura, quello potrebbe essere. Ammesso poi che gli vada tutto liscio con i lavori, perché è già iniziata a piovere, quindi possono lavorare meno di quanto forse pensavano. Non possiamo fare le vetrine perché è tutto chiuso e purtroppo il lavoro è quello che è da quando è successo questa pandemia e cerchiamo di andare avanti fino a quando possiamo. Quindi quest'anno signora anche senza addobbi? Eh, senza addobbi, sì, per forza.